Ciao a tutti, siete Giacchia con Dana e oggi apriamo la Bubble Surprise! Bubble Surprise! È la prima volta che apriamo questa LOL Surprise Bubble Surprise. Sì, Bubble Surprise! E iniziamo! Vai avanti tu! Wow! Cos'è? È bellissimo! E ora si dovrebbe aprire da qua! Wow! Prima di farlo bisogna mettere il coperchio qua e questo qua. Guardate che bello! E andiamo avanti ad aprirlo. Apriamo prima le Ball. Qua ci sono sei Ball. Queste piccole Ball. E vediamo cosa ne uscirà fuori. Cos'è scritto? Cos'è scritto? Sì, ti tolgo la plastica. Wow! c'è la sabbia cinetica. Guardate che bella vestita! che bella gonna! E ormai è uscito con la sabbia cinetica. vediamo cosa mi è uscita. Vediamo cosa mi è uscito. Che bello! E' un cerchietto! Togliamo la sabbia. Guardate il cappellino! Guardate il cappellino! Tieni! Guarda che bello! Guarda che bello! Eccola! Andiamo avanti! Cos'è questo? Non lo so, apriamo! Cosa ci uscirà? Guarda cosa ti esce! Delle scarpine! Cosa c'è? Mi è uscito questo! Che bello! Un costume da bagno! Noi siamo al mare, quindi ci serve proprio un costume da bagno a questa LOL. Guardate che belle scarpine! Cos'è questo? Apri! Questo è il costume da bagno. Guarda! Vieni un friggio saranno! Il costume della sirena! Noi ce l'abbiamo uguale, vero? Sì! Wow! Togliamo la plastica. Ora immergiamo il cuore! Sì! togliamo la plastica. Sì! Insieme! Uno, due, tre! Di che colore è diventata l'acqua? Blu e rosso! E rosa! E insieme sembra viola! Sì, è uscito un pezzettono! Che bello! Sì, bellissimo! Qua ce n'è ancora! Buon attacco! Blu! Ora apriamo! Sì! Mamma mia! Wow, sono i capelli! Ci sono i pacchetti! Apriamoli! Apriamoli! Il cucciolo! A me è uscito il biberon della nostra LOL! Che bello! Che capelli splendidi! Guarda che capelli! Guardate! Sono bellissimi! Apriamo l'ultimo pacchetto insieme! Sì? Sì! E' bellissima! E' bellissima! E' bellissima! E' bellissima! Le vestiamo! Sì! Guardate! Abbiamo vestito la LOL! Guardate che bella! Non è uscito! Cambio! E' bellissima! E' bellissima! Si vede che il cagnolino sicuramente cambia colore! Perché guardate qua si vede che cambia colore! E' anche lei sotto il vestito! E ora cambiamo il look! Sì! Li ho cambiato vestito! Guardate che bella! Ha il costume da sirena! Abbiamo cambiato di nuovo il look! E gli abbiamo messo il costume! Guardate che bello! E' bellissimo! Sì! Li chiamo Dana! Prima salutiamo! Ok! E oggi salutiamo Alibaba Noventa! E come sempre Rita perché scrive dei bellissimi commenti! Ciao Rita! Ciao Alibaba! Scusa se pronunciamo male il tuo nome! E le nostre due LOL di oggi! La LOL si chiama Sailor Qt e il pet si chiama Sailor Puppy! Ciao a tutti! Iscrivetevi al mio canale e mettete un palce in su! Ciao! 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 Campanella! Papa Campanella! Ciao! Ciao! Ciao!